Un feedback su questa prima partecipazione al FIOLI Summit? L'ho trovata estremamente interessante soprattutto per la qualità e la competenza degli speaker, quindi porto a casa in realtà delle idee venendo qui come relatrice. A suo avviso come vede la consulenza indipendente in Italia ma anche in Europa e nel mondo? Secondo me c'è veramente molto spazio per i consulenti indipendenti soprattutto se grazie alla loro competenza e alla loro trasparenza riusciranno a conquistare la fiducia dei clienti, soprattutto qui in Italia clienti bancari che sono abbastanza disillusi e che ultimamente hanno mostrato di essere sempre più sfiduciati nei confronti del sistema bancario. Quindi a mio avviso c'è molto spazio per questa attività. Grazie. Grazie.